In occasione della festa dedicata alla Madonna dell'incoronata, in coincidenza con l'ultimo sabato di aprile, si è svolta, come ogni anno a Santa Croce di Magliano, la peculiare benedizione degli animali. Un culto antichissimo che riunisce l'intero paese e che negli anni ha visto una partecipazione sempre maggiore di abitanti dei paesi limitrofi. La festa è una delle più attese dalla popolazione. I festeggiamenti, la processione svolta nel pomeriggio, la sfilata lungo corso Umberto dei cavalieri e degli allevatori del posto, la tripica treccia portata a tracolla da alcuni pastori che la utilizzano come decorazione, rendono la festa della Madonna dell'incoronata suggestiva e storicamente interessante. La tradizione affonda le sue radici lontane nel tempo, forte del legame con la devozione e col mondo agricolo. La leggenda, infatti, narra dell'apparizione della Madonna a un contadino, mentre egli arava un campo nelle pianure del Foggiano e presso le quali ora sorge un santuario a lei dedicato. Rapito in estasi, egli girò per tre volte intorno all'albero dell'apparizione. Da qui, l'eredità dell'usanza che vede ancora oggi è il compiere di tre giri intorno alla chiesa di San Giacomo per ricevere la benedizione finale del sacerdote. Numerosa anche quest'anno la presenza di cittadini provenienti da altre regioni d'Italia, merito del passaparola, del ritorno a casa dei cittadini emigrati spesso per lavoro e dell'operazione di promozione che le associazioni del posto continuano a svolgere per le festività locali. A tal proposito abbiamo intervistato l'assessore alla cultura Nicolangelo Licursi, il quale ha sottolineato l'impegno promosso in direzione del marketing territoriale, come sostegno alle piccole e medie imprese locali per risollevare gli aspetti turistico-economici del territorio. Assessore Licursi, uno dei vostri programmi era il marketing territoriale, ci avete lavorato o ci state lavorando ancora? Mi sembra che stia riuscendo? Ci stiamo lavorando ma stiamo avendo anche i primi frutti, vediamo che effettivamente il lavoro a cui abbiamo creduto sin dall'inizio, di fatti l'avevamo già messo nel nostro programma elettorale ma credendoci di arrivare a degli scopi. Pian piano ci stiamo riuscendo, sono a maggio, fine maggio, sono due anni di amministrazione e stiamo seminando bene, stiamo facendo delle cose, questa settimana l'abbiamo chiamato Viaggio nella bellezza perché è una settimana ricca di eventi culturali, un convegno sulle no gastronomie, il gusto del territorio, ieri la presentazione della settimana santa finalmente del nostro grande poeta e scrittore Raffaele Capriglione ma fresteggiamo anche oggi, l'abbiamo fatto anche il 28 con un convegno in 30 anni della nostra scuola, quindi valorizzare quello che noi abbiamo, valorizzare il nostro territorio partendo da qui e quindi questo è il marketing territoriale, saremo presenti il 6 di maggio al bit di Termoli alla Borsa Nazionale del Turismo. Ecco appunto, avete iniziato portando la Pasquetta fuori Santa Croce, mi pare che i forestieri abbiano risposto e quindi ci raggiungono poi quando le tradizioni sono qui nel paese. Certo, oggi vediamo la cosa bella, a parte la giornata che è splendida, ma tantissima gente che viene da fuori perché stiamo riuscendo a trasferire questo messaggio all'esterno e non solo, ma poi siamo anche noi che portiamo fuori le nostre tradizioni. Siamo stati a Campobasso e a Termoli con la Pasquetta e ci ritorneremo il 6 di maggio appunto con la BIT, con la Borsa Italiana del Turismo, ma porteremo la Quarantana, porteremo i Marawash, porteremo l'ultimo sabato d'aprile.